amici e amiche della voce del diavolo del canale youtube milanelo ben ritrovati sinceramente io non so da che parte cominciare non lo so ci sono troppe cose strane troppe troppe cose che non vanno troppe situazioni nebulose partiamo dal dire fatto siamo arrivati secondi siamo arrivati secondi dal punto di vista visivo secondi e dal punto di vista anche economico è un ottimo risultato finisce lì tutto il resto è molto negativo cominciamo con la battuta di battuta che lui ci crede veramente che ha fatto lo zio jerry cardinale in un durante un convegno ma non è la prima volta che la dice sta fesseria dice e no è giusto non vincere sempre è necessario non vincere sempre perché perché poi ci si annoia io sapevo che invece uno deve cercare di vincere sempre e poi in realtà non vince sempre perché c'è qualcuno che cerca a sua volta di vincere e quindi da lì viene fuori il bello della competizione questa è la competizione la sana competizione invece lui dice no è meglio non vincere sempre però caro jerry che ti annoi vincendo sempre sarai entusiasta lo adesso sarai entusiasta sicuramente non sei annoiato caro zio jerry forse ti è sfuggito perché sei molto impegnato così no sono sfuggite ti è sfuggito il fatto che il milano avesse vinto sette champions sei il proprietario del milan asserito proprietario del milano e non sai che il milano ha vinto sette champions forse non ti sei accorto che tu caro zio jerry hai partecipato a sette competizioni e non è vinta manco una due campionati due coppa italia due champions league e un europa league 2 4 6 7 7 competizioni e non è vinta manco una non che purtroppo le vinte tutte che noia non è vinte cinque non è vinte tre le vinte manco una anzi ti informo caro zio jerry non hai mai neanche rischiato di vincerne una per per sbaglio non è rischiato perché in campionato l'anno scorso e quest'anno non si è mai lottato per vincere mai se non magari le prime due o tre partite ma non si è mai lottato per vincere si è sempre stato chiaramente il fatto che al massimo si potesse arrivare secondi o comunque in champions league in coppa italia coppa italia si è uscito con l'atalanta al primo turno e l'anno prima si è uscito col torino forse comunque si è uscito assi forse col torino giocando in undici contro dieci caro zio jerry in europa league hai fatto una figura barbina giocando contro la roma che contro di noi sembrava lo squadrone invincibile sembrava la roma di falcao e invece la rometta che conosciamo perché poi si è visto una roma normalissima ma contro di noi siamo stati capaci di far diventare la roma la grande roma di falcao quindi zio jerry non ti preoccupare non è non è un problema di noia anche se dovessi anche se metti su una squadra adesso che vince che vinca le prossime tre competizioni sarebbero 10 nei 23 ci siamo col tuo programma quindi mi aspetto questo che tu le prossime tre competizioni campionato champions e coppa italia le vinca tutte e tre il quindi il 30 per cento delle competizioni cui partecipato siamo totalmente in linea col tuo col tuo desiderato quindi io mi aspetto questo va beh lasciamo perdere queste amminità queste battute e voglio parlare un po di come vengono trattati i tifosi del milan perché secondo me tifosi nel milan si stanno comportando in un modo perfetto in un modo perfetto dal tifoso come è normale come sono io tifoso da stadio ma non ultra il tifoso social dal tifoso da bar al tifoso della curva si stanno compagando a tutti bene partiamo dalla curva la curva per due partite non ha supportato la squadra non ha messo gli striscioni ha messo pochi striscioni cercando di spiegare la propria situazione cercando di spiegare il proprio sentimento e emanando due comunicati che non sono belli non sono appropriati sono perfetti sono perfetti nella richiesta di avere una proprietà che investa nella società nei quadri dirigenziali e i quadri dirigenziali che abbiano sufficiente budget per fare una squadra potenzialmente vincente una richiesta perfetta fatta col massimo della civiltà della grossa ma proprio perfetta ed ed educazione perfetta non ho nulla nulla da dire in negativo e invece siamo stati additati come oh ma guarda questi cosa fanno cosa credono che il tifoso possa influenzare una società anche perché c'era stato una famosa c'era stata la famosa petizione no petegui e questo ha scatenato e no ma i tifosi non possono entrare la società deve andare avanti se guardi i tifosi ma questo amici miei questo lo sappiamo tutti non è che arrivate voi fenomeni a dire ma guardate che guardate che i tifosi devono fare i tifosi che per loro vuol dire supportare sempre la squadra e spendere un sacco di soldi che si mettono in saccoccia comunque il tifoso deve fare il tifoso può avere qualche diritto di critica forse ma non tanto è per l'amore di dio non tanto se no fam così ma comunque ma comunque non può non può interloquire con la società e non può come dire pressare la società nelle decisioni giusto giusto c'è un piccolo particolare però che il tifoso del milan non l'ha mai fatto io sono tifoso del milan da sempre e non è che quando c'era giussi farina andammo in b con giussi farina anche se fu uno scandalo genoa bologna comunque andammo in b con giussi farina io non me l'ho mai azzardato e dice non c'erano i social ma c'erano altre forme di comunicazione cosa credete che ora è solo prima dei social come i ragazzi che dicono non c'è il cellulare come facevate prima si faceva lo stesso ci si incontrava lo stesso si organizzavano le feste lo stesso non vi preoccupate non è necessario avere i social o avere i cellulari per vivere si è vissuto bene lo stesso anche senza social e senza cellulari e signori comunque non è che io andavo da farina o il tifoso andava da farina a dire devi prendere questo giocatore o devi prendere questo allenatore ma veniamo agli esempi più recenti mira recentemente ha avuto un allenatore sbagliato mettiamolo così sbagliato tale Giampaolo ricordate Giampaolo? Giampaolo però è stato criticato quando si è visto come agì quando si è visto che si confondeva che magari era in vantaggio numerico lui pensava di essere in svantaggio quando aveva delle soluzioni tattiche stravaganti no? ecco ma quando è arrivato Giampaolo nessuno ha detto niente dei tifosi perché? perché era una scelta tecnica era una scelta fatta da persone a cui i tifosi riconoscevano capacità chi c'era? Maldini e Boban credo e Gazzidis poi hanno sbagliato e si è detto beh avete sbagliato come succede e hanno preso pioni ma nessuno preventivamente ha detto ma siete impazziti non si può prendere non si può prendere Giampaolo non è stato questo perché? perché comunque c'era una logica c'era una società c'era un'area tecnica che prendeva decisioni e poi tu aderisci o critichi specialmente dopo aver visto ma oggi perché? e questa è la domanda che si deve fare sto cardinale qua che cardinale parolone sarà un prevosto alla fine non è molto più di un prevosto oggi per quello che sta facendo per il Milan perché c'è questa cattiveria tra virgolette nei confronti di questa proprietà perché non c'è fiducia perché non c'è alcuna fiducia nella competenza di queste persone non c'è alcuna fiducia nella competenza di gestire una società di calcio in Furrani non c'è alcuna fiducia nella competenza tecnica di Moncadà che era uno scout non c'era alcuna fiducia in Pioli che da allenatore è stato promosso coach e non lo sapeva fare e devo dire qui lo so che mi arrabbierete io non ho alcuna fiducia in Ibra come dirigente perché è la sua primissima esperienza però comunque comunque a meno è uno che la speranza te la dà la speranza te la dà però siccome non c'è fiducia non c'è fiducia per forza che se annunciano Lopeteghi se annunciano Fonseca c'è la rivoluzione o ci sarà la rivoluzione io voglio vedere proprio voglio vedere Ibraimovic che dica sì ho scelto io sono come diceva Jerry io sono il suo uomo a Milanello ho scelto io Fonseca per questo motivo questo motivo questo motivo io voglio vedere se Ibra finirà per dire questo perché se dicesse questo si prende la responsabilità io non penso che Ibra si prenderà la responsabilità secondo me Ibra sicuramente non sarà esperto ma sicuramente è ambizioso sicuramente e quindi lui vorrebbe un allenatore vincente Ibra vorrà sicuramente perlomeno vorrà Conte o giù di lì o giù di lì perché poi si rimarrà anche lui mi aspetto mi aspetto le dimissioni di Ibra se arrivasse veramente un allenatore come Fonseca ecco fatto sta che non sappiamo chi è l'allenatore fatto sta che continuiamo a farci prendere in giro da mezzo mondo fatto sta che siamo qua disillusi non dico pessimisti ma poco fiduciosi per il futuro e questo è male questo è male perché il calcio e passione ripeto non è necessario vincere sempre assolutamente assolutamente ma è importante avere sempre fiducia e io voi stessi ditemi avete fatemi una domanda e datevi voi stessi la risposta avete piena fiducia in questa proprietà in questa società per il futuro del Milan ciao a tutti